Leonardo Silva Revisore Io credo di aver sempre voluto fare il modicista. Mio padre suonava il pianoforte e mi raccontano che quando lui suonava a casa, io gattolando, ancora prima di camminare, andavo sotto il pianoforte e restavo a sentirlo, magari per un'ora, un'ora e mezzo. Quindi per me, in qualche modo, la scelta della musica, la scelta di fare musicista è stata naturale, ma non la scelta dell'opera, non il rapporto con il melodramma. A casa non si sentiva, mio padre non lo amava. E quindi ho dovuto conquistare il rapporto, l'amore verso l'opera, l'ho dovuta conquistare per conto mio, pian piano, lentamente. La scoperta dell'opera. E che cosa ho scoperto? Beh, prima di tutto ho scoperto che l'opera è il grande spettacolo multimediale. È un po' il cinema dei secoli passati. Il grande spettacolo popolare a cui tutti partecipano in un grande spazio. Ed è uno spettacolo che appunto è multimediale, dal vivo naturalmente, ed è composto quindi da una storia. C'è una narrazione, c'è la recitazione. Ci sono le scene, le luci, i costumi, il ballo molto spesso. Ma soprattutto c'è la musica. L'opera ha una particolarità. L'opera è un genere in cui è la musica a raccontare la vicenda, è la musica a articolare il dramma. Ma questo com'è possibile? Come può la musica raccontare? Può farlo meglio delle parole? Bene, i grandi compositori d'opera scoprono una cosa che è un po' il segreto dell'opera, ed è un segreto ancora oggi valido nella musica che sentiamo tutti i giorni. Scoprono che la musica può dire cose che le parole non riescono a dire. Quali sono queste cose? Beh, essenzialmente le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la nostra interiorità. La musica riesce a rendere subito evidente un sentimento. E lo fa attraverso il canto nell'opera, attraverso la voce. Quindi letteralmente dà voce alla nostra interiorità. È un linguaggio, come ha detto qualcuno, delle emozioni. Qualcuno ha definito la musica come il linguaggio delle emozioni. E allora, dato che qui c'è un pianoforte, volevo affrontare qualche famosissimo pezzo d'opera per vedere che cos'è questo linguaggio delle emozioni e in che modo riesce effettivamente a dare vita, dare forma, dare espressione ai sentimenti. Volevo farvi sentire un pezzo di una delle opere più famose e più eseguite in assoluto, che è la Traviata di Giuseppe Verdi. Metà dell'Ottocento, 1853 più esattamente. La Traviata, la protagonista Violetta, è una donna traviata, è una prostituta, una cortigiana. Nel primo atto di quest'opera si svolge una festa da ballo in casa di Violetta. Partecipa un giovane, Alfredo, che a un certo punto le rivela di essere innamorato di lei da più di un anno. E durante questo duetto molto intenso, Alfredo a un certo punto canta questa famosa melodia. Le parole dicono di quell'amor, quell'amor che è palpito dell'universo intero, misterioso e altero, croce e delizia al cor. Croce e delizia è un'espressione che naturalmente poi è entrata nel linguaggio comune. E la melodia con la quale Alfredo canta questa dichiarazione d'amore, melodia famosissima, è... Tensione misterioso. Melodia famosissima, peraltro. Poi Alfredo esce, tutti escono, la festa finisce e Violetta resta da sola. E comincia a rimuginare su queste parole, su questa dichiarazione del tutto inaspettata che ha ricevuto. E dice, nessun uomo è mai riuscito effettivamente a coinvolgermi, ad accendermi. Perché allora queste parole risuonano così forti dentro di me? E comincia a cantare questa famosissima aria, questo brano solistico. E all'inizio è un po' esitante. Si chiede se sia proprio lui. Cioè, ah, forse è lui che l'anima, che potrebbe riuscire ad accendere l'anima. E comincia appunto con questo gesto un po' esitante. Poi l'anima. La musica un po' mesta, la sentite? Sta interrogandosi. Sta cercando una motivazione, sta cercando di capire. La musica sale, sale, finché Violetta canta esattamente le parole e la musica della grande dichiarazione d'amore che Alfredo le aveva fatto qualche minuto prima. Riascoltiamo la stessa melodia. La prima volta l'abbiamo sentita ed era una dichiarazione d'amore, la seconda volta è il riflesso nell'anima di Violetta di questa dichiarazione d'amore. Violetta canta, si sfoga, questa grande apertura melodica, poi si ferma, si riscuote e dice che sto facendo. Queste sono follie, sono follie. È un delirio vano. Io sono una povera donna sola, abbandonata in questo popoloso deserto che chiamano Parigi. La tentacolare metropoli ottocentesca. E quindi reagisce e dice che far De Gio, che devo fare? Gioire di volutà nei vortici perire e comincia la seconda parte dell'aria che tecnicamente si chiama la cabaletta che è completamente diversa. È mossa, è agitata, quasi frenetica addirittura e il testo dice sempre libera De Gio, folleggiar di gioia in gioia. Sentite, la musica conta è più agitata, quasi frenetica in realtà. Violetta è quasi isterica in questo tentativo di resistere all'amore, addirittura canta. Si spinge verso queste note acutissime. Sta cantando proprio sopra le righe. Sopra le righe è un termine che viene dalla musica. Vuol dire quando le note acutissime superano di molto il rigo più alto del pentagramma. Cantare sopra le righe, un altro esempio di linguaggio musicale che è entrato nell'uso corrente. E proprio in questo momento parossistico, isterico, in cui lei sta proprio cercando di convincersi che no, l'amore non le interessa, sentiamo Alfredo che da fuori, fuori dalla finestra, canta. E questo è la stessa melodia naturalmente che abbiamo già sentito, la cantata Alfredo, per dichiarare il suo amore verso Violetta. La cantata Violetta, nel momento in cui stava chiedendosi se Alfredo fosse l'uomo per lei, la canta nuovamente Alfredo da fuori. Ed è il simbolo musicale dell'amore che penetra sempre più a fondo nell'animo di Violetta. Ora, da questa rapidissima descrizione, noi capiamo intanto il modo in cui la musica dà voce al sentimento. Pensate ai sentimenti di Violetta. Brillante cortigiana che dà una festa da ballo, riceve una dichiarazione d'amore. Esita, titubante, ricorda questa dichiarazione e decide di reagire, ma questa melodia che rappresenta l'amore naturalmente, che arriva da fuori, penetra sempre più a fondo nel suo animo. All'inizio del secondo atto, Alfredo e Violetta saranno insieme. La musica è un'arte che si svolge nel tempo, ha bisogno della ripetizione. Ma la ripetizione, come vedete, è della stessa melodia che però cambia significato drammatico. E in qualche modo ci mostra quindi l'evoluzione di un personaggio, il modo in cui l'interiorità di Violetta si trasforma progressivamente. Lo stato d'animo cambia. Questo è un tipo di processo psicologico che naturalmente un grande scrittore potrebbe in qualche modo rendere in maniera altrettanto efficace in un romanzo. Ma in un romanzo il grande scrittore dovrebbe scrivere delle pagine di introspezione psicologica profondissima. Sarebbero le pagine più difficili, più dense, più complesse da leggere del romanzo. Invece nell'opera la forza della melodia, la forza della musica, il dar voce all'interiorità ottiene un risultato che è immediatamente comprensibile e coinvolgente per migliaia di spettatori. Questo è il miracolo dell'opera. Ma l'opera può fare di più. Il linguaggio operistico può darci delle altre emozioni. Per esempio può in qualche modo rendere evidente e palese l'interazione fra più personaggi. Per esempio fra due personaggi che discutono fra loro. Volevo parlarvi di una famosa scena di seduzione, di un'altra grandissima opera scritta prima, alla fine del Settecento, da Mozart, il Don Giovanni. Il primo atto del Don Giovanni c'è un grande famosissimo duetto fra il cavaliere licenzioso che è Don Giovanni e una contadina che stava sposandosi. Don Giovanni irrompe rapidissimo, è sempre fulmineo, caccia il marito e dice a Zerlina che la vuole sposare. E comincia questo duetto sbalorditivo in cui il cavaliere è assolutamente, come dire, impositivo. Assolutamente. Vuole conquistare questa fanciulla. La ragazza all'inizio è un po' ritrosa. In realtà non è che faccia una resistenza proprio streno, eh. Diciamo la verità. In tre strofe cede. Però sostanzialmente lui, in tre strofe cede, sì. Lui canta «Là ci darei in la mano, là mi direi di sì». Vuole portarla in un suo casottino. «Vedi, non è lontano, partiamo ben mio di qui». Quindi «Là ci darei in la mano, là mi direi di sì». Sentite il gesto proprio imperioso. Altra melodia famosissima, naturalmente. Zerlina risponde. È interessante perché risponde con la stessa melodia, ma mentre Don Giovanni comincia, come diciamo noi musicisti, sul tempo forte, Zerlina canta «Vorrei e non vorrei». Mi trema un po' quel cor. «Felice e versarei, ma può burlarmi ancora». Non si fida esattamente di questo cavaliere. Infatti canta. C'è una nota in più. È più incerta, è più indecisa la linea di Zerlina. Ora, in un duetto in questo periodo, la prima strofa è cantata da un personaggio, qui è Don Giovanni, la seconda dall'altro personaggio, poi i due cominciano a discutere, a parlare fra loro, a dialogare. Un verso per uno. E qui, interessantissimo, il libretto cambia schema metrico. Prima abbiamo «Là ci darei in la mano, là mi dirai di sì». «Vedi, non è lontano». Ma partiamo ben mio da qui. «Vorrei e non vorrei», mi trema un po' quel cor, sono rime alternate, tecnicamente. Ma la terza strofa, che è la strofa in cui la seduzione giunge a buon fine, Zerlina cede. Terza strofa, il testo dice «Vieni, mio bel diletto» e Zerlina ancora pensa al marito, dice «Mi fa pietà masetto». «Io cangerò tua sorte», dice Don Giovanni, «E lei presto non son più forte». E le rime come sono? «Vieni, mio bel diletto, mi fa pietà masetto». «Io cangerò tua sorte e presto non son più forte». Queste rime si chiamano tecnicamente «basciate». Capite? Nell'istante in cui la seduzione sta prendendo corpo, e quindi Don Giovanni canta… e Zerlina… In che modo, attraverso la tecnica musicale, il compositore pian piano rende fisicamente presente la scena di seduzione. Poi i due ricominciano a cantare il testo dall'inizio, ma alternano i versi e soprattutto pian piano Mozart avvicina le due parti vocali ed è letteralmente l'immagine, l'immagine fisica dell'abbraccio, la piovra Don Giovanni che con i tentacoli avvolge questa ragazza nelle sue spire. Giovanni è un personaggio inquietante, questo libertino clamoroso che ha avuto migliaia di donne, e la musica lo rende proprio evidente. se voi poteste vedere il manoscritto di Mozart, nell'istante in cui le voci sono più ravvicinate… Cantano proprio alternandosi a rapidissima distanza, brevissima distanza. In questo istante nel manoscritto Mozart scrive le gambe delle note che si avvicinano fra loro. è proprio l'immagine fisica dell'abbraccio. E poi c'è l'ultima strofa, la quarta strofa, in cui i due personaggi cantano insieme lo stesso testo. Il testo dice «Andiamo, andiamo mio bene a ristorare le pene di un innocente amore». Un altro pezzo celeberrimo, naturalmente. Notate un elemento tecnico? Qui Mozart cambia ritmo. Prima era in due. Un, due. Un, due. Qui invece è in tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Si sente la differenza. Sapete perché? Perché Zerlina era entrata in scena per la prima volta nell'opera su questo ritmo. Poco prima, nell'istante in cui si stava celebrando il matrimonio con il povero Masetto, che poi viene immediatamente cacciato da Don Giovanni, Zerlina canta. Giovinetti che fate all'amore, che fate all'amore. Un, due, tre. Un, due, tre. È lo stesso identico ritmo sul quale finisce il duetto nell'istante preciso in cui la seduzione è compiuta. E questo significa una cosa profonda. Significa che Mozart, in questo caso, fa dialogare fra loro il linguaggio musicale del cavaliere attraverso il nobile ritmo di danza, e il linguaggio popolare, i personaggi popolari, i contadini in particolare nelle opere di Mozart, molto spesso cantano su questo ritmo. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Quindi nell'opera di Mozart c'è, attraverso la musica, una dialettica tra le classi sociali. Siamo nel 1787, due anni prima della rivoluzione francese. Questo significa evidentemente che, beh, l'opera non parla solo dei nostri sentimenti. Non parla soltanto delle emozioni. L'opera parla anche del mondo. Parla anche di ciò che sta succedendo intorno a noi. Parla magari anche del modo di riuscire a risolvere i problemi della società. Nella precedente opera di Mozart, due plebei, Susanna e Sigaro, riuscivano ad avere ragione del conte, di un nobile, nel 1786. L'opera parla di noi, parla della nostra interiorità, ma parla anche del mondo che abbiamo intorno. E se ci pensate, in realtà, le canzoni che noi sentiamo oggi di che cosa parlano? Parlano d'amore, parlano di rabbia, di dolore, di tristezza, di gioia. Un'aria d'opera di che cosa parla? D'amore, di rabbia, di gioia, di tristezza, di dolore. La stessa scoperta dei grandi compositori d'opera continua a essere valida ancora oggi nella musica che sentiamo tutti i giorni. Detto in altro modo, abbiamo sempre bisogno dell'opera. Grazie. Grazie.